quali sono le regole per condurre i droni con le nuove normative europee e italiane che sono scattate dal primo gennaio 2021 in particolare quali sono le regole che bisogna seguire con i droni di oggi che non hanno la nuova marcatura di classe lo vedremo tra poco prima di iniziare vi invito a visitare il nostro sito quadricottero news e quadricottero.com dove giornalmente pubblichiamo notizie inerente al mondo dei droni è tutto gratis quindi non vi preoccupate vi chiedo anche un like al video per supportare il nostro lavoro quotidiano e l'iscrizione al canale se non l'avete ancora fatta grazie come probabilmente già saprete dal 31 dicembre 2020 enac ha perso la competenza sulla regolamentazione tecnica dei droni che è passata ad easa oggi in italia si applica il regolamento 947 2019 945 2019 1139 2018 in pratica il regolamento europeo droni assieme al regolamento europeo droni si applica anche il regolamento enac oasit che copre gli aspetti non regolamentati da regolamento europeo come anticipato oggi ci occupiamo principalmente delle regole che bisogna seguire con i droni di oggi ovvero i droni senza marcatura di classe si tratta delle limited open category vi ricordo che se durante un volo nell'ambito limited open category oppure open category quando utilizzeremo droni con marcatura di classe supereremo anche soltanto una delle regole previste sconfineremo nella categoria specific che richiede requisiti molto più onerosi rispetto alle open category una delle novità più importanti della nuova normativa è quella che non esiste più differenza tra uso ludico ed uso professionale del drone chiunque di noi potrà utilizzare può utilizzare un drone sia per lavoro che per divertimento seguendo sempre le stesse regole nelle limited e open category possono essere pilotati droni sotto il 250 grammi di peso senza aver conseguito l'attestato di pilotaggio il cosiddetto patentino in tutti gli altri casi è necessario aver conseguito l'attestato di pilotaggio gli attestati nazionali emessi da enac prima del 31 dicembre 2020 continuano ad essere validi anche col nuovo regolamento se il primo gennaio 2022 non saranno ancora giunti a scadenza enac comunque sarà obbligata a convertirli il crow ovvero il vecchio attestato per le operazioni critiche è valido anche per la categoria a2 e per tutte le open category ovviamente perché è la 2 è la categoria delle open category che richiede requisiti superiori alla a1 e alla a3 il vecchio attestato basico per le operazioni non critiche se non è ancora scaduto resta valido per le open category a1 e a3 è praticamente è equivalente all'attuale attestato online che si segue sul sito enac come potete notare ho messo un asterisco perché questa equivalenza non è ancora stata esplicitata da enac ma fidatevi che sarà così a breve enac pubblicherà la nuova circolare leak 15 dove probabilmente chiarirà anche questo aspetto ma dove si possono condurre i droni in italia in italia ci sono degli spazi aerei che hanno delle regole ben precise che devono essere rispettate da chiunque piloti un drone di qualsiasi tipo anche i droni sotto i 250 grammi di peso non è vero che possono volare ovunque come viene detto si tratta delle cosiddette zone geografiche per droni sono stabilite da enac e possono riguardare diverse limitazioni possono esserci zone per aeromodellismo zone vietate perché siamo ci troviamo in centro città zone che richiedono il dispositivo di identificazione elettronica e altro anche se una zona di volo una zona geografica è consentita non è detto che in quella zona possiamo fare quello che vogliamo infatti ci sono delle regole generali che bisogna seguire in ambito limited e open category prima di tutto l'operatore deve essere registrato la registrazione in italia si fa su di flight è esentato dalla registrazione l'operatore che conduce un drone giocattolo ovvero adatto al soggetto inferiore a 14 anni di età una volta effettuata la registrazione sul drone deve essere applicata l'etichetta di registrazione operatore che in italia è rappresentata da un qr code attualmente di flight si sta adeguando alla normativa europea e quando sarà pronta ci sarà un unico qr code per tutti i droni detenuti dall'operatore il numero di registrazione operatore sarà da inserire nel sistema di identificazione elettronico per i droni con marcatura di classe quando ci saranno oppure nel dispositivo accessorio che sarà previsto per i droni senza marcatura quando dovranno volare nelle zone stabilite da enac che richiederanno appunto l'identificazione elettronica in italia enac ha deciso che è obbligatoria l'assicurazione per condurre qualsiasi drone deve essere un'assicurazione adeguata allo scopo con un massimale minimo superiore agli 800 mila euro per quanto riguarda l'età minima del pilota open categorie specifiche è di 16 anni non c'è età minima per pilotare un drone sotto i 250 grammi considerato giocattolo oppure un drone sotto i 250 grammi autocostruito e non c'è età minima per il pilota supervisionato da un soggetto con 16 o più anni di età a patto che questo soggetto abbia l'attestato relativo all'operazione che si sta conducendo poi come abbiamo visto bisogna controllare che non ci siano nella zona in cui siamo la zona non sia interdetta al volo ci siano condizioni per volare in regola bisogna mantenere il drone a vista in qualsiasi momento bisogna mantenere una distanza di sicurezza tra il drone e le persone gli animali e gli altri aeromobili per quanto riguarda la distanza dalle persone si tratta di persone non informate e come vedremo nella tabella c'è una categoria che permette di sorvolare anche persone non informate in caso di incidente serio bisogna informare l'autorità aeronautica nazionale non si può utilizzare il drone per lanciare oggetti né materiali pericolosi né qualsiasi oggetto in genere nelle open category non si possono sorvolare ovviamente assembramenti di persone con nessun drone nemmeno con il drone sotto i 250 grammi di peso l'altezza massima a cui condurre il drone rispetto al suolo sottostante è di 120 metri ma bisogna rispettare anche le altezze più limitate riportate nelle zone geografiche da di flight ovviamente non dobbiamo mettere in pericolo gli aeromobili con equipaggio quando li avvistiamo dovevamo attuare manovre per evitare qualsiasi pericolo inoltre dobbiamo evitare di intervenire di far volare il drone quando ci sono in atto situazione di emergenza se il gestore dell'emergenza non ci ha dato l'autorizzazione di intervenire non dobbiamo violare la privacy altrui in particolare con i droni a cui è consentito volare nei scenari urbani non dobbiamo sorvolare proprietà private a bassa quota per non essere a rischio potenziale per non essere accusati di interferenza illecita nella vita privata ad esempio sorvolando cortili interni e zone che non si nuotano da fronte strada quindi non dobbiamo indugiare con il drone davanti a finestre se non abbiamo ottenuto il consenso del proprietario e in generale non dobbiamo pubblicare video e fotografie di persone che non ci hanno dato il loro consenso alla pubblicazione bene passiamo alla tabella che fa un po il sommario di tutte le regole che dobbiamo seguire con i droni senza marcatura fino al 31 dicembre 2022 partiamo dai droni di peso inferiore ai 250 grammi possono essere autocostruiti però la loro velocità massima non deve essere superiore ai 19 metri al secondo oppure possono essere i droni di oggi senza marcatura però immessi sul mercato prima del primo gennaio 2023 praticamente si tratta dei droni legacy che fanno usufruiscono dell'articolo 20 del regolamento 947 di questa categoria fan parte il mavic mini il mini 2 e tutti i droni di oggi che hanno la marcatura CE ma non hanno la marcatura di classe C0 fino al 31 dicembre 2022 questi droni possono essere condotti anche in scenari urbani se lo spazio di volo è consentito lo abbiamo detto prima bisogna consultare le mappe di flight per essere sicuri che la zona geografica in cui intendiamo volare non è vietata dobbiamo verificare che non ci siano di vieti di pubblica sicurezza dobbiamo evitare di sorvolare infrastrature sensibili e operare con prudenza e cognizione di causa droni deve essere condotto a vista può essere utilizzato anche di notte però a partire dal primo luglio 2022 deve avere una luce verde lampeggiante quando si utilizza di notte sia senza luci che con luce comunque dobbiamo mantenere il v loss ovvero la capacità di capire in qualsiasi momento come è orientato il drone come ho detto in precedenza l'operatore deve essere registrato se il drone sotto i 250 grammi non è un giocattolo e se ha la telecamera il pilota non ha l'obbligo di conseguire l'attestato l'assicurazione obbligatoria è previsto la possibilità è prevista la possibilità di effettuare il volo in fpv a patto che accanto al pilota ci sia un osservatore e si può utilizzare il drone in follow me però non deve essere più lontano di 50 metri dal pilota che sta seguendo a partire dal 2023 si potrà comunque continuare utilizzare questi droni senza marcatura come vediamo dj mavic mini mini 2 e altri anche se non avranno la marcatura c0 si potranno usare per sempre con le stesse condizioni della classe c0 che sono quelle che abbiamo visto adesso per i droni senza marcatura di classe sotto i 500 grammi come ad esempio mavic air 1 lo sparca mafi e altri si applicano le a1 limited fino al 31 dicembre 2022 quindi si potrà volare anche con loro si potranno condurre nei scenari urbani sempre se lo spazio di volo è consentito come ho detto per la classe inferiore ai 250 grammi bisogna comunque consultare le mappe di flight vedere che non ci siano di vieti di pubblica sicurezza non sorvolare infrastrutture sensibili e tutto quello che ho detto prima in questo caso però i voli non potranno sorvolare liberamente persone non informati ma dovranno essere condotti in modo in cui ragionevolmente il pilota non si aspetta di sorvolare persone non coinvolte non informate nel caso in cui avvenga un sorvolo imprevisto di persone non informate bisogna minimizzare i tempi anche qua come per tutti i droni non si possono sorvolare assemblamente ovviamente anche qua vola vista anche di notte altezza massima e 120 metri se non limitata dagli spazi di volo l'abbiamo visto in precedenza questa altezza massima è per tutti i droni per tutte le categorie compresa anche la 250 grammi l'operatore si deve registrare su di flight qua se sarà previsto dallo spazio di volo bisognerà installare l'identificazione elettronica è un discorso che abbiamo fatto in precedenza per pilotare questi droni è necessario aver conseguito l'attestato online a 1 a 3 il corso e l'esame si trovano sul portale enac l'esame è composto da 40 domande a risposta multipla bisogna rispondere giusto ad almeno il 75 per cento delle domande per superare l'esame come detto per tutti i droni e quindi anche in questo caso obbligatore l'assicurazione con massimale minimo non inferiore a 800 mila euro a partire dal 2023 terminano le limited open category e i droni sotto 500 grammi senza marcatura finiranno in categoria a 3 quindi in questa categoria c1 ci saranno soltanto droni con marcatura c1 i droni senza marcatura di classe fino a 2 kg a 2 limited e quindi mavic 1 e 2 auto e evo phantom 4 eccetera potranno essere utilizzati nelle scenerie urbani se lo spazio di volo sarà consentito ovviamente come ho detto prima bisogna controllare sulle mappe di flight che non ci siano di vetri di pubblica sicurezza eccetera questi droni andranno condotti mantenendo almeno 50 metri di distanza dalle persone non informate inoltre linee guida e metodi accettabili di conformità del regolamento europeo 947 indicano la regola 1 a 1 significa che se noi siamo alti se il drone ha un'altezza di 40 metri rispetto al suolo deve mantenere almeno 40 metri dalle persone di distanza delle persone però in questo caso non si applica perché come vediamo la distanza minima da mantenere le persone di 50 metri sarà più ridotta quando ci saranno droni con marcatura c2 droni con marcatura c2 potranno avvicinarsi anche fino a 5 metri di distanza dalle persone non informate se sarà attiva la modalità a bassa velocità a proposito delle persone non informate c'è da dire che tutti i droni open category possono sorvolare persone informate dove per informate si intende persone messe a conoscenza dei rischi e dotte delle procedure che devono attuare nel caso qualcosa vada storto e quindi come si devono comportare nel caso il drone precipiti cosa devono fare per mettersi in sicurezza e cose del genere e devono aver dato il loro consenso esplicito in questo caso si tratta di persone informate e tutti i droni possono sorvolarle a patto che non siano sembrate anche per questa fascia di droni necessario il volo a vista per in realtà per tutte le open categorie necessario e obbligatorio il volo a vista però come abbiamo visto si può volare anche di notte altezza massima sempre 120 metri se non limitata da di flight dalle zone geografiche di flight operatore se deve registrare su di flight e applicare il qr code id elettronico se richiesto dagli spazi di volo e poi per condurre questi droni c'è bisogno dell'attestato a2 l'attestato 2 si consegue prima ottenendo l'attestato a1 e a3 e poi superando un esame di teoria composto da 30 domande presso un centro di assestramento prima però di fare l'esame di teoria l'aspirante pilota deve avere effettuato un periodo di pratica pratica di pilotaggio in maniera anche autonoma in condizioni a3 cioè in un campo lontano almeno 150 metri dalle zone residenziali come vedremo tra poco quindi riassumendo aver ottenuto l'attestato a1 a3 aver svolto pratica in modo autonomo e aver superato l'esame di teoria di 30 domande presso un centro di addestramento sono i requisiti per ottenere l'attestato a2 c'è da dire che presso il centro di addestramento è possibile fare tutto e quindi fare il corso di teoria più anche un corso di pratica presso il centro di addestramento per poi conseguire tramite esame finale l'attestato a2 le frecce che vediamo a sinistra e a destra la freccia verde a sinistra significa che chi ha ad esempio un drone fino a 2 kg può decidere se pilotarlo in classe a2 oppure pilotarlo in classe a3 ad esempio chi ha un mavic 2 può decidere se conseguire l'attestato a2 per pilotarlo nelle condizioni che abbiamo appena visto oppure se accontentarsi dall'attestato a1 e a3 e pilotarlo nelle condizioni dei droni sotto ai 25 kg di peso la freccia verde significa che i droni più leggeri possono volare nelle categorie dei droni più pesanti perché i droni più leggeri hanno minori limitazioni non si può fare l'inverso non si possono utilizzare droni più pesanti nelle categorie più leggere e questo è senso della freccia verde e della freccia rossa nel 2023 questi droni sotto ai 2 kg senza marcatura finiranno in categoria a3 categoria a3 che resta uguale alla categoria dei droni sotto ai 25 kg senza marcatura in cui possono volare droni autocostruiti e droni senza marcatura di classe quindi droni attuali questi droni della categoria a3 possono volare possono essere condotti devono essere condotti mantenendo almeno 150 metri dalle zone residenziali industriali ricreative e sottolineo che ricreative significa anche da un parco cioè quella zona dove le persone vanno per passare il tempo quindi i parchi lungo fiumi e tutte queste situazioni dove possono esserci persone l'area dovrà essere sgombra da persone non informate però nel caso in cui entrino persone nell'area in cui sta facendo volare il drone bisogna cercare di evitare di mettere in pericolo e la disposizione delle metodi accettabili di conformità indicano di mantenere almeno 30 metri di distanza da queste persone che sono entrate nell'area operativa di volo anche per questa categoria vola vista anche di notte altezza massima abbiamo detto 120 metri se non limitata dalle mappe di flight e dalle zone geografiche riportate su di flight ovviamente registrazione operatore sempre su di flight applicazione qr code id elettronico se richiesto dai spazi di volo e poi bisogna conseguire l'attestato online che è uguale a quello della 1 quindi quello attuale che si fa sul portale enac assicurazione sempre obbligatoria sempre con i mini di 800 mila euro massimale minimo di 800 mila euro si può effettuare fpv con osservatore c'è da notare che il follow me è possibile soltanto nella categoria dei droni sotto i 250 grammi di peso e sotto i 500 grammi per la 2 per la 3 non è prevista la possibilità di fare il follow me nel 2023 questa categoria diventerà a3 full quindi continueranno ad essere applicate esattamente queste regole per i droni senza marcatura quindi avere un senso la marcatura o averlo con con la marcatura c3 non fa differenza per quanto riguarda la 3 bene siamo giunti al termine spero di aver spiegato il tutto in maniera più esaustiva e semplice possibile se avete delle domande come sempre vi aspetto nei commenti vi ringrazio per l'attenzione lasciate un like al video se vi è piaciuto se vi è stato utile iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto noi ci vediamo col prossimo video su quadricottero news grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento